La realtà virtuale alla Casa Museo Bandanti per esplorare lo spazio e cosa succede durante i terremoti. L'osservatorio geofisico ha fatto partire su Idea Ginger una raccolta fondi per migliorare l'offerta didattica rivolta soprattutto ai più piccoli. 3.800 euro per acquistare alcuni dispositivi che permettono di migliorare la proposta didattica. Il progetto si inserisce all'interno del programma Come rendere giocoso il museo, un'iniziativa partita ormai da qualche anno, per rendere i musei più a misura di bambino. Chiunque può partecipare alla raccolta fondi. Sono 28 i giorni che mancano alla scadenza. 1.295 euro sono già stati raccolti. Il sabato 10 ottobre è previsto un aperitivo culturale per incontrare ulteriori sostenitori. Cerchiamo sempre di trovare delle nuove ispirazioni, delle nuove idee per ampliare l'offerta formativa, soprattutto per offrire ai bambini che vengono e che frequentano l'osservatorio anche da anni, la domenica mattina dalle 10 a mezzogiorno. L'alternativa a qualcosa che a casa non hanno molto spesso e quindi si entusiasmano a vedere queste nuove cose. Il progetto che abbiamo in cantiere oggi è appunto l'ampliamento della possibilità di muoversi nell'osservatorio, soprattutto dove noi abbiamo un bellissimo stellario realizzato da padre Lambertini, e dove la realtà virtuale, cioè quella realtà che apparentemente può sembrare strana ma che è una realtà artificiale, è una realtà che dà la possibilità ai bambini però di muoversi in un mondo completamente diverso da quello normale. Che cosa appunto vorreste far provare ai bambini attraverso la realtà virtuale? Quale viaggio? Il viaggio è sempre nell'universo. Lo stimolo, l'entusiasmo che crea nei bambini la possibilità di muoversi nello spazio, di navigare tra i pianeti, di muoversi tra le costellazioni, tra le stelle, è qualcosa sempre che affascina. Abbiamo fatto un esperimento una volta con un programma che aveva fatto l'Istituto Nazionale di Astrofisica per permettere ai bambini di muoversi sulla ISSA, erano entusiasti, quel giorno sembravano impazziti, non volevano più andare via. Quindi dare l'opportunità ai bambini di conoscere un mondo che è lontano dalla loro realtà perché comunque le distanze astronomiche sono distanze allucinanti, quindi fa veramente effetto per loro. Quanti dispositivi avete bisogno? Adesso per il momento prendiamo due dispositivi in modo tale che con quello possiamo dare un'offerta veramente valida. Poi nel futuro si vedrà, dipende anche come c'è, quale risposta c'è da parte della gente e anche da parte dei bambini. Chiunque vi può dare una mano, come fare appunto? Ecco, il nostro progetto si chiama Come rendere il giocoso il museo, è sulla piattaforma Ginger. Chiunque può dare un contributo, anche piccolo. Noi abbiamo messo un contributo minimo di 5 euro, ma il contributo che tante persone possono dare non è significativo nella quantità, è significativo proprio in tante persone che collaborano e che dimostrano di apprezzare il lavoro che stiamo facendo. È proprio di questo che abbiamo bisogno, cioè che la gente si renda conto che lavoriamo tutto come volontariato, quindi quello che facciamo ha l'obiettivo di offrire sempre qualcosa di più interessante. Noi facciamo tutto gratis, non facciamo pagare il biglietto. L'unica cosa che chiediamo è un'offerta libera, se qualcuno si sente di farla, anche proprio per portare avanti questi progetti che comunque sono impegnativi. A proposito della raccolta fondi, sabato prossimo ci sarà un appuntamento fondamentale. Sabato 10 ottobre abbiamo pensato di realizzare un aperitivo musicale, ci sarà l'architetto Rava, un altro esponente che allieteranno il pomeriggio alle ore 18. Ognuno di noi farà qualcosa per offrire appunto un aperitivo simpatico alla gente che verrà a sostenere il nostro progetto. Questo aperitivo ha un costo di 15 euro, si potrà mangiare, si potrà bere e si ascolterà un po' di buona musica. Quindi diciamo che ha il doppio obiettivo, offrire alla gente la possibilità di entrare in osservatorio e di guardare quello che noi facciamo tutti i giorni e godere della presenza appunto di qualcosa di carino come può essere un aperitivo, un po' di musica e dei piccoli buffet di alimentazione. Grazie. Grazie.